...prendere tempo, no, siamo chiacchieroni, però, visto che si fanno le cose dal vivo, io ho avuto la fortuna tanto tempo fa, quando era ancora in vita, a Merano, da un certo sceno dove si andava tutti per dimagrire, io sono cresciuto di 5 chili, ma quelli che dimagrivano agli altri la guadagnavo io, non ho capito come è stata questa storia, comunque vabbè. C'era un certo Luciano Pavarotti, che ho avuto la fortuna di conoscere, incredibile, no, non sto raccontando, grazie, se lo metto, nel mondo ricordato per sempre. Ho chiesto, maestro, se dovessi fare una cosa che so che lei è molto amico con un personaggio di Modena, un'introduzione me la concede in un collage, ci mancherebbe altro, ed è nata così questa storia. E' 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 nata così questa storia. Grazie.